Sono Gabriele e benvenuto nel mio canale dedicato al mondo del trading online. Se sei interessato a investire sui mercati finanziari o vuoi saperne di più sul trading online, sei nel posto giusto. Per iniziare, volevo dirvi di prendere tutto ciò che vi dirò con le pinze, perché io, come probabilmente anche tu, sono neofita. Questo è un video per chi come me è alle basi, quindi se dirò cavolate tra i professionisti per favore non uccidetemi. Detto questo, vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale per supportarmi gratuitamente. Inoltre mi darete una mano per farmi notare dall'algoritmo di YouTube. Ok, adesso possiamo iniziare. Oggi andremo a vedere cosa serve per fare trading online. La prima cosa che vi sembra fare trading è chiaramente sì, sono i soldi. Possibile che in questo caso non costituiscono un vero e proprio problema. Dato che se sei migliorenne significa anche che sia agli inizi. Quindi in questo caso inizia con un conto demo, perché i più problemi sono altri. Abbiamo capito che i soldi per i migliori non sono i problemi. Analizziamo un secondo requisito fondamentale che vi serve per fare trading. Sto parlando delle competenze. Non possiamo pensare di metterci a fare trading senza aver acquisito le skill necessarie per farlo. Dobbiamo studiare prima di metterci a parlare sui mercati. Ah, video lungo vero? Editando il video mi sono reso conto di non aver registrato una clip di chiusura. Quindi niente, il video è finito. Se non siete iscritti vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un like. Attivare la campanella per non perdervi in un suo altro video. Detto questo, alla prossima. Grazie a tutti.